Ciao a tutti, ecco le novità della settimana. Apollo, biplano pronto all'uso, di piccole dimensioni e adatto anche per i principianti, ha radiocommando da 2,4 GHz e istruzioni in italiano, modello in EPP praticamente indistruttibile. Kit Lego dedicato a Trafalgar Square, la famosa piazza londinese. Set Lego dedicato al cartone animatico dei Flintstone. Il kit contiene la casa con dell'arredamento, l'auto e 4 personaggi. Kit Lego Creator da 1.471 pezzi, dedicato alla Ford Mustang. Automodello radiocomandato in scatola di montaggio in scala 1 a 10 della mitica Tyrell a 6 ruote. Edizione speciale con la carrozzeria già verniciata. Il radiocomando e l'elettronica non sono inclusi. Della Traxxas presentiamo il modello radiocomandato Latrax di Valentino Rossi in scala 1 a 18. Il modello è pronto all'uso. Tamiya, kit statico in scala 1 a 24, Toyota Gazoo Racing TS50 ibrido. Per gli appassionati di questo modello sappiate che c'è anche disponibile il modello mini 4WD. HPI, automodello Crawler King Ford 1979 F150. Modello 4WD in scala 1 a 10, con radiocomando da 2,4 GHz, pronto all'uso e completamente waterproof. Knock, set di mascherine per segnaletica stradale in scala H0. Ultimate clip di sicurezza per carrozzeria.